ciao in questo video vediamo insieme come realizzare un vassoio con il dtv il vassoio in legno ci andiamo a prendere dunque la nostra grafica io insieme a questa grafica qui aggiungerò anche un'altra cosa che mi serve insomma per non per non sprecare la carta per non sprecare spazio quindi ovviamente vado ad ottimizzare anche con un altro lavoro ma prendete in considerazione solamente questo qui con il caffè praticamente per il vassoietto del caffè essendo un file in formato png ha uno sfondo trasparente e è già predisposto con il nuovo la nuova versione del programma silhouette studio per essere già tagliato quindi come come ve ne accorgete perché vedete che intorno ci sono le righe rosse intorno ai disegno questo vuol dire che praticamente è già tracciato quindi voi non dovete fare assolutamente niente dovete solamente mandare in stampa per il print and cut e poi andare a ritagliarlo insomma con la vostra silhouette la misura che io posso usare sono circa 16 17 centimetri perché il mio vassoio a quella misura lì lo metto qui nel video in cui stampo qui ci sarà un'altra immagine ma vi ripeto serve a me quindi in questo video non non ve lo faccio vedere tanto comunque quello che a voi serve è questo qui con il caffè crocini di registro on stampa per stampare su dtv controllate che ci siano i crocini di registro per stampare su dtv easy color mi raccomando come impostazione di stampa utilizzate carta comune e qualità alta ok una volta stampato andiamo sul comando invia come sempre e ci andiamo a scegliere le impostazioni di taglio io metto trasferimento a caldo stampabile io utilizzo la lama ratchet ovviamente voi le impostazioni sono le stesse quindi lama 1 io come forza metto intorno ai 12 13 velocità metto 1 perché comunque ci sono dei pezzettini piccoli e voglio che me li tagli bene passi 1 carico il tappetino e clicco su invia in questa fase qui potete vedere come tramite l'utensile ad uncino potete riuscire a togliere i pezzettini piccoli di materiale aiutandovi appunto con la punta le parti all'interno delle delle lettere sono molto difficili da togliere senza senza l'uncino ci andiamo adesso a mettere il foglio trasfer trasparente che è quello che trovate direttamente nella confezione degli easy color io sto utilizzando sempre lo stesso perché comunque rimane appiccicoso e si può tranquillamente riutilizzare finché ci si riesce mi aiuto adesso con una spatolina potete usare tranquillamente una qualsiasi spatolina semi rigida rigida insomma anche una carta del supermercato va bene se non avete una spatolina come questa tutto questo per fare aderire il transfer che adesivo al disegno che avete stampato perché vi farò vedere tra poco che facendola aderire praticamente lo portate via e lo andate a posizionare bene sul materiale da decorare adesso praticamente con la mini pressa ci andiamo a pressare tutto il disegno perché uso la mini pressa perché comunque sia il mio vassoietto è come vedete scanalato cioè c'è una scanalatura interna quindi non posso usare la pressa ok se voi avete la pressa e un vassoio dritto insomma potete tranquillamente usare quella io sto usando questa perché comunque è più comoda posso andare dove voglio posso muoverla come volete come voglio su tutti tutti i lati del del disegno e questo è l'effetto finale se volete stare un pochino più tranquilli ci passate un piccolo strato di resina oppure magari ci potete spruzzare una vernice protettiva io lo userò come vassoietto per le tazzine del caffè e niente spero che vi piaccia un abbraccio ciao